Buonasera, bentrovati! Grazie dell'attenzione e grazie a Carla anche questa sera. Oggi è la nostra terza puntata di giugno e come vi ho detto ieri sera, ve lo dirò per qualche sera a fila, in modo che ricordiate e sappiate che in questo mese io cercherò di suggerirvi quasi esclusivamente piatti freddi, dei piatti che possono veramente venirvi utilissimi in una cena e poi sempre, quotidianamente. Infatti fa già caldo, non rimaniamo vicino ai fornelli e alimentiamoci in un modo diverso, leggero e fresco. Anche la mia ricetta di questa sera fa parte di questa linea. Allora io vi rimando dopo il breve stacco, ormai lo sapete. Ritorniamo tutti qui e questa sera vi presento il pollo in gelatina con un'insalata rustica. Sarà tutto molto facile ma gustosissimo e poi una bella novità della quale parlarvi tra poco. Grazie! Grazie! Rieccomi con voi! Allora anche questa sera un simpatico e gustosissimo piatto freddo che potrete già preparare per la cena. Se seguirete, come fate sempre, scrupolosamente i miei suggerimenti. Prima di cominciare, dunque intanto vi dico che la ricetta che vi presenterò è pollo in gelatina con insalata rustica. Ma voglio parlarvi subito subito del pollo in gelatina perché ho scoperto, facendo la spesa l'altro ieri, ho scoperto questo favoloso prodotto di Manzotin. Voi sapete vero, Manzotin è un marchio prestigioso e famosissimo. Mi sono accorta che prepara anche il pollo in gelatina e naturalmente con la stessa cura, amore e perfezione che mette per la preparazione di tutti i suoi prodotti. Vi parlo un attimo del pollo in gelatina. Intanto sono soltanto petti di pollo. La gelatina è una gelatina aromatica ma è vegetale e poi ci sono delle spezie appunto per aromatizzarla. E poi una cosa molto interessante è che è in due confezioni, in questa da 50 grammi e in questa più grande da 142. Ed è utilissima se siamo a dieta perché è magro naturalmente. Pensate che per ogni 100 grammi di prodotto soltanto 0,5 grammi sono i grassi e poi ha soltanto 50 calorie la scatolina piccola e adeguatamente quella più grande. Ma io vorrei da questa sera suggerirvi tanti diversi modi per portare in tavola un prodotto così, che è un prodotto squisito ma alternativo con qualche cosa di interessante che si sposi molto bene. Allora per cominciare a conoscerlo meglio, questa sera ne prendiamo una confezione per ogni commensale di questa da 142 grammi. Pertanto 4 confezioni per 4 commensali. E la abbiniamo a questa insalata rustica che prepareremo con dei fagiolini verdi, 150 grammi, ben puliti mi raccomando via i fili e poi cotti con un pochino d'acqua e sale e scolati. Poi li ridurremo insieme a piccoli pezzetti. Ci mettiamo anche dei fagioli, dei fagioli borlotti, 250 grammi. Se sono quelli scatola mi raccomando eliminate il liquido di conservazione e sciacquateli un attimo. Ci metterei un cipollotto o una cipolla di queste bianche tagliata fine fine. E anche 100 grammi di questa bella insalata che si chiama sapete soncino. Anche l'insalata lavata accuratamente, poi vediamo forse la sminuzzeremo. Il condimento andrà fatto con dell'olio d'oliva, extravergine mi raccomando, una grattugiatina di noce moscata, un pochino di aceto rosso più un pochino di aceto balsamico. Naturalmente sale e pepe. Tutto molto facile, andiamo a eseguire questa ricetta in compagnia come sempre. Allineiamo i fagiolini sul tagliere e li tagliamo, vedete, così a pezzettini ma non eccessivamente piccoli. Vi ricordo che i fagiolini dovranno essere 150 grammi. Ah, a proposito dei grammi, mi sono sbagliata prima, eh? Le scatole di pollo in gelatina manzotin, la piccola sono 90 grammi e non 50 come vi ho detto, e la grande 142. Ecco, allora abbiamo tagliato così i fagiolini e li mettiamo in una terrina che poi contenga tutto in modo da poter condire gli ingredienti. Ci mettiamo adesso i fagioli borlotti sgocciolati sciacquati, 250 grammi. La cipolla, la cipolla vedete voi, se ad anelli così è troppo grande, magari riduciamola un pochino. Lasciamo qualche anello che è anche bello da vedersi, però parte la tagliamo piccolina. Allora, questi qui li lasciamo che poi si possono disfare. È un'insalata, abbiamo chiamato appunto rustica, per via di tutti questi ingredienti. Abbastanza forti. Ecco la cipolla. Ultimo il soncino che va tagliato anche lui a pezzetti, ma non piccoli piccoli, un pochino più piccole di queste foglie. Mettiamo tutto insieme e poi prepariamo il condimento. Prima di condire l'insalata, cosa che facciamo insieme tra un attimo, io vi faccio vedere che poi su un bel piatto da portata mettiamo un letto di foglie di lattuga, quattro, e poi apriamo le confezioni di pollo in gelatina manzotin. La confezione è a strappo e poi, eccole, teniamo magari in frigorifero qualche minuto in modo che escano bellissime così come sono, vedete, le mie. Guarniamo poi il piatto lì nella parte centrale con qualcosa di colorato. Adesso invece mi mostro il condimento dell'insalata. Sia l'aceto che l'aceto balsamico vanno messi in una ciotolina. Poi uniamo il sale subito nell'aceto, il pepe, l'olio a filo e la noce moscata, grattugiatina di noce moscata, poi l'olio a filo. Con tutto quanto condiamo l'insalata e mescoliamo tutto bene. Vi facevano notare prima che qualora la cipolla fosse troppa è una cosa a vostro gusto. Se vi piace la mettete, altrimenti potete anche eliminarla oppure metterne proprio soltanto due sottilissimi fili. Allora mescoliamo, poi assaggiamo se necessita ancora di sale, di pepe o di aceto e disponiamo anche l'insalata nel piatto da portata. Ed eccola pronta da servire subito la nostra insalata di pollo rustica. Vi ricordo che il pollo è lo squisito pollo in gelatina a manzotin che ci dà appuntamento la prossima settimana per una ricetta tutta nuova. Adesso scappo perché non ho più tempo e guardate che vi aspetto domani, domani a pranzo con un ospite e domani sera qui con una ricetta fresca e nuova per voi. Ciao a tutti, a te Carla, grazie!